Stimati in 12.000 i passeggeri che atterranno e decoderanno l'aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco d'Assisi in occasione del Festival Internazionale del Giornalismo che sta vivendo la fase conclusiva. La società di gestione dello scalo ha sottolineato in una nota che grazie ad un network che connette l'Umbria a numerose capitali europee sono tantissimi giornalisti, detti lavori, visitatori del Festival che in questi giorni hanno scelto l'aeroporto perugino. 16 le rotte programmate per la stagione Summer 2023 operate da 6 compagnie aeree con voli fino a 98 di linea settimanali. Disponibili collegamenti da e per Barcellona, Brindisi, Bruxelles, Bucharest, Cagliari, Catania, Cracovia, Londra, Malta, Olbia, Palermo, Rotterdam, Tirana e Viena.